Gargamella era di fatto un perra, come direbbero all'ombra della madunina. Dal resto, se il tuo nome fa riferimento a un mollusco, ci sarà pure un motivo. Non lo sapevate, vero? Nemmeno io, ed è per questo che ogni anno mando un'offerta a Wikipedia. Il dubbio che ci assale da decenni è sempre quello. Dedichi la tua esistenza a catturare i puffi, passi la vita intera a ingegnare minchiate più o meno grandi per poter flambare quelle robe color livido, alti come due mele melinda, e poi viene fuori, fin dal primo episodio, che tu stesso puoi crearli nel pentolone. Ma ci sei! Invece che starvi a cercare un villaggio fatto di amaniti, aumenta le dosi fatte di tuoi puffi, magari un filino più stilosi di quella puffetta l'orfia che hai fatto all'inizio. La natura con Gargamella non è stata matrigna, no. Ha preso direttamente una pala e gliela ha data in faccia. I denti sono come le stelle in cielo, peccato che sia la cintura d'Orione e siano solo tre. Il look è a metà strada tra la strega nocciola in disoccupazione e ciao, sono andato a fare spese l'ultimo giorno di saldi e ho trovato solo sta roba. La casa, beh, le agenzie immobiliari la definirebbero per amanti della tranquillità pittoresca e abitazione indipendente, ampi spazi, prezzo trattabile e stenersi per di tempo. Anzi no, andate bene pure voi per di tempo perché ce l'abbiamo sul gruppone. dal 1984. Gargamella di professione fa il mago e crede nella pet therapy, visto che l'unica cosa viva della sua esistenza è un felino, la gatta appellata birba, che, come il padrone, ha un elevato grado di inutilità nell'acchiappare i robbi blu. Le motivazioni per cui il mago si accanisce nella cattura di esseri che cantano fastidiose canzoncine sono molteplici. Inizialmente si viene a sapere che i puffi sono l'ingrediente principale per tramutare il piombo in oro. Poi viene fuori che Gargamella vuole semplicemente catturarli per cibarsene. In un recente documento chiamato film, l'orrido mago vuole succhiare dai puffi l'essenza della felicità e diventare così il più grande mago al mondo. Cosa peraltro poco probabile, perché se il buongiorno si vede dal mattino, Gargamella fin da giovane era una ciofeca di mago. Ok che ci sono casi peculiari di geni che a scuola sono stati bocciati, ma se sei un idiota, idiota rimani. E se ti circondi di imbecilli, non è che migliori con gli anni, Gargamella si avvarrà dell'aiuto, si fa per dire di lenticchia. Un giovane apprendista, ultimo del suo corso, che, dato il talento ineffabile, viene cacciato da tutte le scuole di magia del creato e vede nel mago, vestito di cenci, l'ultima speranza. Inutile dire con quali risultati. Gargamella è il mago. Peraltro abbiamo impiegato anni a capire che cosa dice nella sigla. A le detti puffi vi avrò e vi ridurrò in pure. Bene, io quel vi ridurrò in pure ho impiegato decenni a comprenderlo distintamente, ma ora che l'ho detto, tutti voi commenterete come accade sempre, guarda che si capisce benissimo. Segno evidente che siete voi malvagi come peggio di Gargamella e non io sordo come una campana dopo anni, anni, anni e anni di cuffie al massimo del volume.